riepiloghiamo i fatti che hanno portato alla sentenza definitiva per quanto riguarda il tribunale antidoping nei confronti di polpo va quattro anni ovviamente questa notizia ha già in qualche modo è già sedimentata sappiamo che così ci sono dei rumors che dicono di un po bacche addirittura abbia lasciato torino di un po bacche consapevole che ovviamente oltre essere scosso come ha scritto sui social è scioccato ovviamente vede messa in bilico la carriera futura ma come ha scritto lui anche quello che ha costruito negli anni certo resta una macchia evidentemente indelebile anche qualora il ricorso annunciato dal giocatore al tas di lausanna possa portare a mitigare la pena certo per cancellarla questa macchia polpo va avrebbe bisogno di una sentenza che ribalta tutto ma ovviamente ci saranno dei tempi tecnici ecco perché oggi occorre spiegare che cosa può fare e cosa vuole fare la juventus nel dettaglio detto che è precisato che ovviamente polpo va resta attualmente un contrattualizzato juventus ai minimi salariali quindi il costo diciamo è vicino allo zero per i bilanci che allo juventus alla juventus da qua alla fine del secondo dei quattro anni di contratto di polpo va nel ritorno in bianconero ritorno di cui ovviamente non si è percepito praticamente nulla se non le posizioni diciamo così bislacche e irrazionali del giocatore a partire da la primissima estate in bianconero la primissima estate del ritorno quando negli stati uniti occorre un problema al ginocchio e giocatore sceglie di non sottoporsi all'intervento chirurgico nonostante fosse tutto prenotato eravamo a los angeles e la juventus aveva già tutto pronto per la mattina successiva per fare l'intervento e chissà magari pogba avrebbe anche davvero recuperato per il mondiale e anche non fosse stato il miglior pogba desdi e deschamps aveva fatto intendere che insomma se pogba fosse stato in piedi e ri atletizzato sicuramente sarebbe stato preso in considerazione così non è stato si è prolungata l'agonia la juventus ovviamente non ha apprezzato e non era questa dirigenza della juventus che ha ereditato un caso scottante un pogba difficilmente riconoscibile quando scendeva in campo non solo in bolsito ma anche in difficoltà se non giocando da fermo a ricordare il vero pogba e questo continuo fermarsi del giocatore per problemi al ginocchio conseguenziali al ginocchio e di varia natura ha fatto sì che ovviamente se arrivate se arrivasse l'estate successiva estate successiva che è nata di nuovo con qualche problema e poi fino al controllo anti doping nella prima di campionato a udine quando giocatore viene convocato da juventus anche se c'è cognizione del fatto che non avrebbe potuto giocare neanche un minuto ma allegri fa una scelta secondo me giusta o comunque che ha una sua logica il giocatore sta allenandosi per rientrare in campo siamo a fine agosto 23 e quindi visto che psicologicamente dentro una buca portiamolo a udine respira l'ambiente squadra si sente nel gruppo può dargli uno slancio a livello appunto anche mentale nell'affrontare quello che sarebbe stato ancora due tre settimane di lavoro per tornare a essere presentabile nel frattempo però arriva alla comunicazione del test anti doping viene fermato il giocatore per la positività una positività che la juventus non ha accolto bene ecco perché abbiamo avuto subito una sensazione di di forte di forte diversità rispetto a come la juventus tratta il caso fagioli che è praticamente della settimana precedente e come tratta invece il caso pogba come sta come si rapporta col giocatore come in qualche modo affianca il giocatore pur responsabile ognuno dei due delle proprie colpe di cui ovviamente la juventus non poteva che essere parte lesa se vogliamo ebbene con pogba questa freddezza della juventus ha fatto subito intuire ci potesse essere un qualcosa di non voglio dire di grave ma di difficile coniugazione nel momento in cui tu pensi di poter di poter dare una spiegazione poter anche avere magari una pena minima o addirittura diciamo così dimostrare l'assoluta buona fede che poi è tuttora nelle intenzioni di polpo va bene si arriva ovviamente alla richiesta dei quattro anni che già aveva destato stupore e addirittura anche il fatto che viene superata di slancio senza un reale punto di contatto la possibilità di tra virgolette patteggiare perché nell'iter che segue una positività al doping c'è anche la possibilità di patteggiamento patteggiamento che non è necessariamente una missione di colpa ma è un modo per implicitamente venirsi incontro stabilire stabilire insomma con con facendo magari mia colpa e tutto il resto anche rispetto a una banale negligenza che non è ammessa giustamente nel mondo dello sport professionistico e non può essere ammessa dalla juventus stessa che ovviamente ha trattato il caso pogba con grande attenzione anzi oserei dire con grande silenzio silenzio che permane da parte della juventus dopo la sentenza definitiva prima prima di prima istanza una sentenza che non ha tolto un giorno alla richiesta dell'accusa quattro anni ci sarà da capire meglio da raccontare davvero allora cosa c'è dietro questa storia di pogba perché quattro anni che la pena massima che si può infliggere tra l'altro con praticamente nessun precedente nel mondo del calcio la combinata grossa si è difeso male a probabilmente come dire il la top è stata peggio del del guaio iniziale insomma si è aggravata a mio giudizio non si può che coniugare così e declinare così la definizione per arrivare davvero ad avere quattro anni in in sede di tribunale sportivo con sentenza anche a fronte appunto di un'attività molto intensa da parte dei periti della difesa dove dobbiamo arrivare cosa vogliamo spiegare quest'oggi la posizione della juventus cioè la juventus è pronta a risolvere con effetto immediato il contratto di pogba ne avrebbe titolo ne avrebbe titolo per le clausole contrattuali ma non lo farà la fiscalità incide ma incide fino a un certo punto certo la juve dentro ancora i due anni del decreto crescita di pogba così come lui ha una fiscalità agevolata il punto è che se interrompe il rapporto il dipendente non è più attivo a livello lavorativo sul territorio italiano dentro 24 mesi decadono i benefici anche a ritroso cioè in maniera retroattiva quindi cosa succede che la juventus che ha pagato profumatamente pogba per un anno e qualche settimana a fronte di 8 milioni più bonus di ingaggio ebbene il lordo ovviamente andrebbe compensato a sfavore della juventus ma non è solo questo dicevo non è solo una questione fiscale una questione anche secondo me di attenzione gestionale da parte del club bianconero non mi risulta che la juventus opererà la risoluzione del contratto in tempi stretti la juventus aspetterà il tas di losanna non perché pensa che un giorno pogba redento possa tornare a vestire la maglia di juventus non è un'istanza credibile ma il tas di losanna può metterci fino a 7 8 mesi a pronunciarsi questo significa che si va dopo l'estate allora magari il primo luglio ci si stringe la mano e amichevolmente si risolve senza dover incorrere in una procedura unilaterale della juventus se pogba invece dovesse resistere in difesa di un contratto attualmente ricordiamo dal minimo salariale e che proseguirà con questo status la juventus a quel punto aspettando anche l'esito del ricorso eventualmente ricorrerà alla risoluzione unilaterale ma a quel punto saremo già che so a settembre ottobre 2024 problema per la juventus ovviamente in termini di risparmio è già risolto quello che la juventus non vuole fare con pogba è andare a fare un reciproco danno d'immagine non un danno finanziario oggi la juventus quello che ha speso l'ha speso quello che spenderà poco niente lo spenderà ma appunto non ci risulta non risulta che la juventus quasi a fare come atto dovuto vada alla risoluzione del contratto chiaramente adesso le parti inizieranno a parlarsi ma questa è la posizione della juventus quindi non ci aspettiamo salvo appunto accordi diversi ma prevedo che siano dal primo luglio anche per quella storia fiscale pogba restare un testato della juventus e la 10 perlomeno fino al 30 giugno rimarrà la non vestita svestita svestita da un grande ex della storia bianconera che non ha saputo essere all'altezza della situazione dal primo giorno del suo ritorno a torino ciao a tutti buon proseguimento con i nostri programmi